Continua a bruciare senza sosta l'isola d'Ischia. Questa mattina si è sviluppato un nuovo incendio a Bonopane nella zona di Candiano. I focolai erano numerosi ed hanno avviluppato la collina con fiamme e fumo molto denso, visibile anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero Canadair. Le fiamme sembravano addomate, invece nel pomeriggio c'è stata la riattivazione dell'incendio per cui i pompieri sono dovuti intervenire nuovamente. Vedete le immagini che sono state girate da Giovanni Afron. Intanto l'isola esplometta di solito a questa ondata di incendi a Catena che si è innescata qualche giorno fa con il rogo dei Maronti. Soprattutto ci si chiede la causa delle fiamme, se è spontanea la siccità o la forte insolazione oppure se ci sono dei piromani in azione che approfittano delle condizioni favoribili per appiccare il fuoco in varie zone del territorio isolato.